buongiorno buongiorno bentornati qua nella nostra galassia se non siete iscritti al nostro canale ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella invece per rimanere sempre aggiornati sui nostri video come vedete siete ancora sul mio desktop perché in realtà è ancora in corso mentre sto registrando io ma fanno i q&a classico e c'è stata una live non dichiarata sinceramente di della crytek dove hanno mostrato nuovi contenuti nuovi contenuti e nuovi cambiamenti che usciranno nella 1.0 sinceramente di quasi tutti sono veramente entusiasta finalmente sembra un cazzo di gioco serio e non una cosa arrampicata mancavano veramente delle cose fondamentali di una cosa invece non sono molto felice ma ne andremo a discutere subito comunque all'inizio della live hanno parlato dei nuovi tutorial quindi per tutti coloro che inizieranno a giocare che si approcciano adesso su un show down e che magari stanno vedendo questo video in italiano perché ragazzi sono l'unico a trattarlo in italiano mi sento un po triste di questa cosa ma comunque ci saranno nuovi tutorial quindi potete andare in gioco potete scoprire come si gioca o comunque potete iscrivervi ai vari gruppi di un show down italia e vi rispondiamo molto felicemente o comunque vi aiutiamo in qualche maniera per fortuna non sono così cancro come altri gruppi che ho visto ma andiamo subito a vedere le novità la prima novità che hanno parlato di cui hanno parlato è questa in pratica d'ora in avanti essendoci più giocatori è plausibile che gli spawn o meglio faranno in modo che gli spawn non siano più uno accanto all'altro ma ci siano ovviamente tutti i nostri spawn che noi conosciamo perfettamente quindi noi li conosciamo tutti in questo caso prendiamo per esempio davant ranch se qualcuno spona in davant ranch accanto non avrà plausibilmente nessuno cioè non ci sarà lo spawn né cambiamenti né altri visibili per gli altri gruppi per potersi mettere qui accanto quindi ci sarà uno spawn uno vuoto uno spawn uno vuoto uno spawn uno vuoto ovviamente questi sono un bel po di spawn in teoria ci sono massimo cinque gruppi due quattro sei otto dieci due sei gruppi scusatemi se c'è una partita con team da due e di conseguenza come potete vedere gli spawn sono più di sei e potremo plausibilmente avere una distribuzione migliore dei player nella mappa questo l'hanno fatto per un semplice motivo perché gente come il sottoscritto o come slade o come molti altri che conosco appena spawnano puntano direttamente agli spawn più vicini avversari e di conseguenza diciamo che si può definire uno spawn kill lo so e da bastardi e da pezzi di merda non lo metto neanche in dubbio però è uno dei modi più semplici per eliminare persone nella mappa subito a inizio game e di conseguenza avere magari una zona più libera dove potersi muovere e prendere le clou non è male è una buona idea potevano farlo prima si lo metteranno nella 1.0 quindi va bene così next next che hanno aggiunto ovviamente sono queste ho già mandato ovviamente lo screenshot ai miei compari su facebook e tutti cambiamenti dei cinque secondi del terzo boost si ebbene si è la cosa diciamo che ha colto di più nel segno e non le altre due che secondo me invece sono molto più importanti ma si dovendo avanti se prendiamo la taglia ci sono soltanto cinque secondi perché l'hanno fatto perché in un team da tre avere 20 secondi su due persone e una libera che non si vede e può tranquillamente aggirarti o stare a distanza e coprirvi a distanza sapendo tra le altre dove sono gli avversari potrebbe essere difficoltoso quindi hanno ridotto a cinque secondi a persona se siete in un team da due o da tre il dark side boost se invece se non ho capito male io e potrei aver capito male perché ragazzi questi parlano l'inglese come boh io parlo il tedesco quindi non si capisce mai veramente un cazzo bisogna ascoltare 15 volte e non ne ho mai voglia beh in pratica se si è in solo e si va a prendere la taglia il dark side boost è da dieci secondi invece in questo caso ritorna a dieci secondi classico gli altri due cambiamenti che invece hanno subito di cui hanno subito parlato è il burning down e teammate warning in pratica hanno ridotto o meglio ha aumentato il tempo in cui si brucia cioè ci vuole più tempo per essere bruciati per essere bruciati quando si è a terra e di conseguenza il teammate ha più possibilità di restarvi ed è un'ottima cosa secondo me anche perché comunque bruciare una persona normalmente non si viene mai arrestati non si ha mai il tempo di restarsi l'altro cambiamento e questo ne sono veramente felice ne sarà felice anche uno dei miei compagni slade quindi ciao teo lo so che mi lo so che lo vedi il video che mi ciao teo rispondimi al telefono cazzo comunque loot change on hunter non ci danno più finalmente le ammo e quindi si può andare direttamente una volta uccisi i 2 3 1 hunter dall'altra parte direttamente si possono andare a lootare e ci vengono dati 75 quindi sono cambiati si va 75 150 o 1000 dollari figata pazzesca se ti capitano i 1000 dollari cioè tipo esci istantaneamente perché che cazzo te ne frega della taglia quando ci hai preso 1000 dollari niente bellissimo hanno parlato comunque anche che si possono recuperare i decoi quindi le varie bombe arresto quindi di quello vi deve andare veramente di culo cioè o pescate i soldi o pescate comunque cose che vi possono servire come possono essere siringhe di cura o quello che voi avete utilizzato che avevate usato per uccidere quelli che vi si sono parati davanti altra cosina che eccoci qua che hanno parlato voi vedrete questa immagine direte che cazzo eh io ci ho messo un attimo ho iniziato a ridere come un deficiente e sono veramente veramente felice perché questo è uno dei due cambiamenti che secondo me rendono questo gioco nel portano almeno questo gioco nel 2019 con tutti gli altri fps presenti sul mercato e cioè questo è il marker noi potremmo mettere i marker che durerà qualche secondo ovviamente c'è il filmato potete andare a vedere la live in cui lo fa vedere mette il marker in vari in giro varie per la mappa e questo ovviamente viene segnalato anche al proprio compagno questo sta significare che se qualcuno vede una persona basta mandare un marker che l'altro sa esattamente dove guardare ovviamente i team più esperti danno direttamente i numeri che vediamo sopra la bussola ma il marker comunque può veramente sempre servire anche perché magari quei player si sono nascosti comunque si sono visti a malapena e anche dare il numero magari quel player si sono già spostati e di conseguenza non si riescono più a vedere il marker può veramente fare la differenza durante uno scontro o durante l'avvicinamento a determinate cose altre cose vediamo un attimo dovrebbe esserci l'ant 2 cerchiamo l'ant 2 12 non l'ho messo va bene l'ant 3 allora vabbè nuovi rewards questi sono per gli sblocchi del delle armi quindi vi vengono dati gli sblocchi per le armi questo invece è il reward per quanto riguarda il team kill quindi se qualcuno vi uccide avrà questo reward ovviamente perdita di punto esperienza questo forse è il reward più bello cioè più bello una delle novità che hanno inserito che è il team kill in pratica è l'aiuto alla kill che dovrebbe essere il kill assist ok non mi ovviamente in pratica avremo dei premi anche se noi aiutiamo ad uccidere la persona dall'altra parte quindi se lo colpiamo con una bomba fiamme o proiettili e poi il nostro compagno lo uccide avremo comunque dei bonus per il kill assist molto 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 bello altra cosa fondamentale che si va ad agganciare con il marker cioè il killer's position elite history in pratica noi che abbiamo noi abbiamo veniamo uccisi in questo caso ci fa vedere il filmato che vengono uccisi ci esce fuori questa bellissima cosa kill view andando a premere la kill view noi andremo in spectate mod del nostro avversario quindi noi siamo morti qua e il nostro avversario ci ha sparato dalla finestra quindi avremo la kill cam molto semplicemente ottima cosa soprattutto perché magari gioca in duo e viene ucciso beh in questo momento si sa esattamente dove si è e da chi è stato e da chi si è stati uccisi con il marker questo va ad ampliare il modo di giocare e soprattutto con la versione 3 da 3 da 3 in team è molto utile perché chiaramente si ha un vantaggio enorme magari avendo dall'altra parte 3 avversarie quindi qualcuno vi può aiutare o comunque può capire vi potete dire dove sono i vostri avversari e chi vi ha ucciso l'altra cosa invece che sono andate a inserire oltre al kill view che è qua ovviamente non si viene hanno fatto vedere un filmato in cui mentre saltava da una staccionata veniva colpito e moriva per caduta quando si muore per una determinata cosa quindi non soltanto per uno scontro fuoco uno contro uno quindi è soltanto una persona che vi ha ucciso avrete il damage story che vi dice esattamente come siete come siete morti in questo caso vi è stato vi è stato sparato il danno in precedenza e poi siete morti per caduta ovviamente c'è la kill history voi siete morti per caduta ci sono molte volte che noi non capiamo perché siamo morti bene in questo caso avremo anche il damage history ottima cosa animal tweaks altro cambiamento che a me sinceramente è piaciuto molto come funzionano gli animali questa è una cosa che si sapeva ma non si sapeva perfettamente non si capiva bene il loro funzionamento l'hanno spiegato finalmente attualmente gli animali funzionano così immaginatevi che tutti gli animali quindi corvi le anatre il vacca la madonna hanno una barra di allerta ok quindi voi immaginatevi con una barra sopra di allerta più voi vi avvicinate più gli animali fanno rumore e la barra di allerta ce la posso fare aumenta in questo caso se noi andiamo in due vicino degli animali la barra aumenterà molto più velocemente perché siamo in due e la barra è unica per due per il team da due in questo caso è stata cambiata in pratica gli animali funzionano a singolo target cioè se passa il mio compagno e passo io alle spalle lo fanno vedere nel video sempre nella live andate a vedere la barra in pratica dell'allerta dell'animale funziona prima per il mio compagno e poi per me di conseguenza anche se il mio compagno li agita io posso passarci accanto magari camminando o stando in crouch e di conseguenza non attivarli perché per me non sono non mi hanno diciamo visto comunque non gli sto dando fastidio secondo me è un'ottima cosa perché adesso come adesso veramente soprattutto i corvi scattano a cazzo di cane anche passandoci a 10 metri di distanza in due si veramente si fanno scattare ed è una rottura di coglioni con la 1.0 finalmente gli si potrà passare accanto camminando e non correndo ovviamente senza farli scattare lo fanno vedere nel video è molto carina come cosa altro cambiamento flash bomb change in pratica hanno cambiato e hanno ridotto lo stordimento del di chi viene colpito dalla flash bomb attualmente sono cinque secondi dove non si vede assolutamente nulla c'è un casino totale hanno ridotto il flash quindi la visuale in teoria dopo tre secondi si inizia a rivedere qualcosina per potersi comunque difendere ma il suono invece viene rimane sui cinque secondi di caos quindi diciamo l'hanno leggermente reworkata diciamo bilanciandola molto secondo me è un ottimo cambiamento questo ci hanno azzeccato abbastanza poison barrel invece è bellissimo sinceramente è bellissimo l'ho fatto vedere un filmato in cui si attiva in pratica come si sa adesso nella 1.0 ogni volta che noi colpiremo una barrel esploderà istantaneamente in questo caso loro fanno vedere un hunter che parte da qua e passa di fronte alla poison barrel lui che tira un coltellino da lancio sulla poison la poison scatta e non è soltanto un'area di veleno ma ci sono dentro anche le hive le hive ovviamente attaccano l'avversario e una volta che l'avversario diciamo si è tolto le hive di ritorno lui tira il coltellino e lo istanta poteva tirare in realtà il coltellino istantaneamente perché sti così istantano uguale ma comunque vabbè carine le poison barrel veramente veramente carine possono creare non poco disturbo quindi bisognerà stare attento più di quelle esplosive secondo me hanno aggiunto come ultima cosa invece l'additional prestige reward cioè hanno aggiunto 3 prestigio cioè 3 reward per il prestigio al qui al 5 il prestigio 5 prestigio 15 prestigio 25 con queste bellissime cose lo sparca al prestigio 5 veramente bellissimo cioè applauso perché veramente è d'applauso questo è veramente uno spettacolo divino le bohemian qui mi sfondano con me una porta aperta perché io adoro nero oro e bianco anche in tempo il mio guardiano in questi colori e sono una figata pazzesca molto bella la bohemian tra l'altro un'arma abbastanza utile anche se fa poco danno però avendo comunque la possibilità di sparare cinque colpi uno di seguito all'altro come la sua gemella tedesca può essere utile adesso soprattutto perché nella 1.0 arriverà a 8 proiettili e al 25 invece che bello ma totalmente inutile il cad derringer molto semplicemente che si chiama the silver carter è carina però non so che cazzo la uso sinceramente l'avrò usata una volta nella mia vita è totalmente inutile e va bene così bene questo credo siano tutti i cambiamenti che sono stati dati o meglio adesso andiamo a vedere subito se per caso se per caso qui i ragazzi mi stanno rompendo le valle niente ok è uscito anche tra l'altro nel test server l'update 1.0 quindi potete andarlo a giocare news di due minuti fa e ve la sto darne in diretta bene con questo spero di esservi stato utile noi ci rivediamo con il prossimo video mi scarico il server test perché adesso voglio andarlo a giocare gg a tutti quanti ciao grazie a tutti